Oggi esistono sul mercato molti attrezzi per esercizi complessi, noiosi, cari ed inutili e la maggior parte di essi non danno alcun risultato. Oppure potete pagare centinaia di euro per un abbonamento in palestra e poi non andarci mai. Tradizionali programmi di fitness solitamente richiedono l'utilizzo di molte attrezzature che allenano solo una parte del corpo alla volta. Ma oggi c'è Total Crunch, il sistema di combinazione dei movimenti che allena tutti i vostri muscoli per risultati completi. Più muscoli muovete, maggiore è l'energia che esercitate e più calorie bruciate. Di conseguenza chi utilizza Total Crunch vede raggiungere i propri obiettivi di fitness più rapidamente e con risultati migliori. Total Crunch è per gli uomini e le donne che vogliono perdere peso, scolpire la propria muscolatura e mostrare un corpo perfetto in meno tempo e con minor sforzo. È perfetto per voi signore che volete perdere quegli odiati chili in più, assottigliare il girovita, tonificare, rinforzare le braccia ed ottenere glutei più alti e sodi. E per gli uomini che desiderano avere questa fantastica forma fisica, con braccia più forti, pettorali più ampi, addominali piattissimi e sexy che noi donne amiamo così tanto. Per voi e per voi abbiamo Total Crunch, tutti risultati con un solo movimento. Se chiamate ora potete incrementare il vostro ordine e provare l'innovativo, rivoluzionario livello di allenamento con l'edizione limitata Total Crunch Evolution. Grazie a una speciale bicicletta ad allenamento integrata, in grado di fornirvi una spinta cardio e il potere brucia calorie dell'esercizio aerobico, combinati con l'aumento della massa muscolare e il potere tonificante dell'esercizio anaerobico, tutto in un unico attrezzo. Total Crunch Evolution offre inoltre un nuovo e migliorato manubrio con una presa più larga per fornire più comfort e permettere una più ampia varietà di posizione delle mani. È sufficiente rimuovere i pedali, personalizzare la resistenza, girando l'apposita manopola e prepararvi per il massimo allenamento brucia calorie e cardio tonificante, fornendo il più completo, efficace e totale esercizio fitness per tutto il corpo. Chiamate ora per ricevere informazioni su questa fantastica offerta e migliorate il vostro allenamento e i vostri risultati con Total Crunch Evolution ora! Total Crunch è pronto a trasformare il vostro corpo in un capolavoro snello, tonico, sodo e muscoloso. È un'offerta speciale e limitata, quella che vedete in sovraimpressione. Non perdete l'occasione di avere i muscoli e il corpo tonico che avete sempre desiderato grazie al potere brucia grassi di Total Crunch! Sì, esatto! Non aspettate! Chiamate ora per ricevere informazioni su Total Crunch. Questo è l'attrezzo fitness che stavate aspettando! Efficiente, versatile, conveniente, alla portata di tutti! Questo è Total Crunch! Quindi prendete il telefono e iniziate a cambiare.